Tutti assolti, questa la decisione del giudice del Tribunale di Arezzo Stefano Cascone nella processo per il falso in prospetto legato al crack di Banca Etruria. Alla sbarra c'erano l'ex presidente Giuseppe Fornasari, l'ex direttore generale Luca Bronchi e il dirigente David Canestri. Il capo di imputazione faceva riferimento alla redazione di alcuni prospetti relativi a tre emissioni di obbligazioni subordinate, uno dell'aprile, uno del giugno ed uno del dicembre 2013. Per i primi due è subentrata la prescrizione, per il terzo invece i tre imputati sono stati assolti perché il fatto non sussiste. È finita bene una vicenda che era nata in maniera estremamente ambigua con delle sanzioni consob palesamente tardive che la stessa Corte di Appello aveva definito nella ricostruzione dei fatti inspiegabili e infondate. Presente alla lettura del dispositivo solamente uno degli imputati, David Canestri. Luca Bronchi si è rappresentato questa mattina, Giuseppe Fornasari invece era rappresentato dagli avvocati. Chi era un sospiro di sorrievo oggi? Sì, dopo otto anni, grazie veramente. L'accusa aveva chiesto condanne da un anno a un anno e mezzo. Naturalmente leggeremo le motivazioni e valuteremo al momento, nessun altro commento. Gli imputati erano accusati di aver fornito ai risparmiatori informazioni non corrette riguardanti la vendita delle famigerate obbligazioni subordinate di Banca Etruria diventate poi carta straccia a seguito del decreto salvabanche del 2015. La soluzione in realtà comporta da parte dei risparmiatori che vogliono in realtà arrivare all'accertamento della verità, non di una mezza verità, di una verità, di anche approfondire quello che sono state, quindi il ruolo di Consob. Sì, sì.